Ogni cassaforte è diversa dalle altre. Ci sono quelle con le sbarra crociera, quelle triangolari e quelle circolari. La chiusura è tutta tenuta, senza fessure. E che fai, mangi? Un po' d'attenzione, no? Mangerai dopo, durante l'intervallo. Dunque, un modo per aprirla è quello della dinamite. Il sistema che usava il famoso Fu Cimin. Fu Cimin? Chi è? Un cinese? Ma che cinese? Veneziano era. Fu sarebbe che morì. Cimi è il cognome, no? Poveracci, sottolineare con tutta la cassaforte. Quindi è un sistema che io escludo al priore. Intesi? E adesso passiamo appresso. Cante crugiavi! Le madame! Oh, povero me, le madame! Eccomi, i brigadiere! Ma, Scalcioni! Parabutti! Se ne schiappa qualcuno, lo faccio nero. Ragazzacci! Ma rischia di farmi vedere un accidente. Mi sembrava strano. È passato ieri. Allora, attenzione. Molte casseforti hanno tre o quattro serrature. Una, però, è quella che conta. E come si fa a capirlo? E come si fa? È trapano, buchetto e cannello. Si riempie la cassaforte d'acqua. Acqua? Dalla serratura che... acqua, acqua. Dalla serratura che esce il liquido acquatico. Diciamo così. Quella è la buona. Ma è un sistema pratico? No. Ora, ragazzi, mettiamoci bene in testa che con le casseforti non c'è mai niente di sicuro. Uno solo. Uno solo è il mezzo sicurissimo. La sega circolare. Ed ora, passiamo ad un esempio pratico con una cassaforte da esercitazioni. Eccoci qui. Vedete questi buchi? Questi sono tutti i tempi che ho preso io, che ho preso mi. Attenzione. Sistema Fu-Cimin. Dinamite. Osservate la perfezione e il diametro di questo orifizio qui. Un'ora e quindici. Un'ora e quindici? Al tempo. Sega, corrente industriale, cinquanta chili di ingombro. Eh, addio. No, non ne parliamo nemmeno. E allora, guardate quest'altro pertuso. Sega, tetesca, volkomut a mano. Con un po' di buona volontà ci si può stare dentro nelle tre ore. Ce l'avete voi tre ore disponibili? Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo, i negozi, gli orari, tutto scientifico. Però tre ore pulite ci dovrebbero essere. E adesso procediamo all'applicazione incorpore Vili. Tu, piglia il bucichetto dell'olio e lubrifica. Che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta. Io in questi affari tecnici non ci vorrei andare. Dante Cruciani, controllo! Sti ragazzacci, ma se ne acchiappa qualcuno lo confio. Sei pronto? Dai. Siamo pronti? Cinque e tre. Vabbe, ce l'ho di cinque anni. Allora di lato, eh? Papà, papà, c'è sta il brigadiere! Oddio, oddio, c'ho rovinato! Nascondila che sta forte! Ehi, Cruciani! E dove sei? Ehi, Cruciani! Dove sei? Ehi, ragazzi! E che si fa? Cadum! 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 Buongiorno, brigadiere! Buongiorno, brigadiere! Come vede, si lavicchia!